Buongiorno, mi rivolgo a te che sei il mio cliente e quindi che mi ha dato fiducia. Tengo particolarmente a te questa situazione molto difficile che ci sta portando problemi, non sappiamo per quanto dureranno problemi personali, familiari, professionali ed economici. Quindi volevo semplicemente testimoniarti la mia vicinanza per tutto quello che sta accadendo e portarti il mio augurio che questa situazione finisca al più presto e ci permetta di ritornare ad attività normali. Quindi l'invito è quello di tenere duro. Bene, un saluto.